... Martedì 24 giugno, sul palco del Parco De Gasperi di Settimo Torinese è salito Max Pezzali l'ex leader degli 883 è stato ospite musicale del Tubi Settimo festival della cittadina che festeggia i suoi 50 anni Pezzali, accompagnato dalla sua band e da due coristi è salito sul palco alle 21.30 intonando Mezzo Pieno o Mezzo Vuoto singolo di punta di Max Live 2008 CD più DVD registrato dal vivo ed uscito a fine maggio poi Max ha fatto saltare tutti i suoi fans con tutti i pezzi classici del suo repertorio dagli anni ha sei un mito da hanno ucciso l'uomo ragno alla regina del celebrità il 2008 è un anno davvero d'oro per Max Pezzali che oltre al nuovo album e la tournée estiva ha pubblicato il suo primo romanzo per prendersi una vita che è in testa alle classifiche di vendita il concerto di Max Pezzali ha riscosso un grandissimo successo dal punto di vista dell'entusiasmo e della partecipazione ora si conta di replicare con i prossimi concerti in programma per il Tubi Settimo con venerdì 27 Edoardo Bennato sabato 28 Irene Grandi e martedì 1 Cristina Donapio Lacrusse adulto è successo è successo è successo è successo sicuramente fa è successo sono Grazie a tutti.